Natale Amaro per gli albergatori, tante disdette per le festività natalizie, c'è apprezzione per le decisioni della cabina di regia del 23, ma intanto arrivano le cartelle dell'Imu e molte strutture non apriranno in inverno. Approvato il bilancio preventivo, previsti investimenti per 100 milioni di Euro nel prossimo triennio di fondi propri dell'ente Comune di Viareggio. 900 mila Euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, erogati fondi per i 10 progetti presentati nel bando beni culturali, tra quelli finanziati il restauro della sede della Misericordia di molti edifici religiosi e un contributo per il Museo del Carnevale. Babbo Natale da Undina e Burlamacco, tanti bimbi hanno incontrato Babbo Natale alla Cittadella del Carnevale grazie alla due giorni organizzata dalla Fondazione che ha portato tra gli hangar e anche la giostra via Reggina. Per lo sport Serie D perde il Real Forte, pareggi per Seravezze e Givi, numerose recriminazioni nelle partite dello scorso turno, i Givi per due reti annullate, il Real Forte per l'espulsione di Cintori. Ben trovati a questa edizione di TG 9 Versilia, dunque come avete sentito dai titoli. dopo una stagione estiva che aveva fatto tirare un po' il fiato agli albergatori, si prospettano problemi per quanto riguarda le vacanze natalizie, sono infatti molte le disdette già giunte alle strutture. Sì, c'è stato un calo significativo, naturalmente tutto si è bloccato, le poche pronotazioni che avevamo si sono trasformate in cancellazione. Questo era da immaginarselo perché la recrudescenza della pandemia naturalmente non ci aiuta. Si prospetta un altro Natale amaro per gli albergatori versilesi. Dopo quello dello scorso anno, infatti, l'andamento della curva dei contagi legati alla variante Omicron e le conseguenti nuove restrizioni stanno scoraggiando i turisti delle vacanze natalizie che temono ulteriori misure restrittive. L'attenzione adesso è puntata sulla cabina di regia del Governo del 23, dove verranno decise le misure da prendere. Sulle strutture alberghiere pesa la spada dei Damocle del numero massimo di invitati ai tavoli, così come l'ipotesi di tamponi obbligatori anche per i vaccinati per accedere a feste e veglioni. Siamo qua veramente molto preoccupati, aspettando il giorno 23, quindi giovedì 23, quando ci sarà questa cabina di regia governativa e ci diranno come dovremo affrontare le festività natalizie e soprattutto il capodanno. Ma il grido di allarme maggiore per gli albergatori sta nelle scadenze dei pagamenti che quest'anno sono arrivate puntuali e senza proroghe nel ristori come avvenuto nel 2020, tanto che molte strutture per abbassare i costi delle spese stanno pensando di non aprire per la stagione invernale andando direttamente a quella estiva. Però voi capite che da arrivare a giugno dopo due anni di pandemia è molto difficile, noi al momento abbiamo veramente tanti debiti da eseguire, da qui abbiamo anche per esempio l'IMU, la seconda data di IMU che abbiamo dovuto pagare perché il governo centrale ha ricettato la nostra richiesta di cancellazione. Non riusciamo ad avere un ponte di tempo per raggiungere il prossimo anno e poter dire il motore ha ancora benzina dentro perché purtroppo i nostri motori nel momento sono vuoti. E vediamo adesso all'andamento del contagio, secondo il bollettino regionale, nonostante i contagi siano inferiori ai 1000, sono 955, in Regione Toscana il tasso di positività è salito del 6,11%, aumentano anche i ricoveri con 406 posti occupati e aumentano le terapie intensive con 61, i decessi sono stati 6, i nuovi contagiati in provincia di Lucca sono stati 87. Il personale del commissariato di Viareggio ha provveduto all'allontanamento dalla casa familiare di un 28enne di Torre del Lago dopo la segnalazione del codice rosse danni della madre alla quale il giudice aveva vietato l'avvicinamento da parte del giovane così come alla sua abitazione. L'uomo dopo gli accertamenti è risultato avere anche pendenti 20 giorni di reclusione per un furto commesso nel 2017 ed è stato quindi associato alla casa circondariale di massa marittima. Andiamo al Comune di Viareggio perché il Consiglio Comunale con 14 voti favorevoli e 6 contrari ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 previsti investimenti per 100 milioni nei prossimi tre anni di soldi propri dell'ente senza dover ricorrere a finanziamenti. Sentiamo il commento del Sindaco, Giorgio Del Ghingaro. Ma intanto è un bilancio sano compilato con estrema prudenza come siamo soliti fare e contiene degli elementi secondo me veramente importanti che dimostrano quanto sia solida la finanza del Comune di Viareggio e cioè intanto c'è una tesoreria di quasi 50 milioni quindi soldi nostri e con questi soldi e i contributi che ormai sono già stati assegnati al Comune di Viareggio noi investiremo sul territorio circa 100 milioni nei prossimi tre anni tutti soldi senza acquisire diciamo così nuovi elementi di debito ma sfruttando tutte le nostre risorse. Quindi questo è significativo se si conto soprattutto del fatto che veniamo da due anni di pandemia e siamo riusciti a non aumentare nessun tipo di tributo o di tariffa. E per quanto riguarda proprio i finanziamenti che arriveranno in Versilia sono 900 mila euro quelli destinati dalla fondazione Cassa di Risparmio di Lucca al bando per la cultura. Oltre 900 mila euro per il recupero dei beni culturali in Versilia a tanto ammontano le risorse che la fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha destinato alla realizzazione di 10 interventi individuati grazie al bando beni culturali 2021-2023. Il bando da poco deliberato vedrà finanziare operazioni di restauro per quasi 3 milioni di euro in tutta la provincia di Lucca. Molti progetti riguardanti edifici religiosi come quello della chiesa di San Rocco a Mulina nel comune di Stazzema, della chiesa di Sant'Agostino a Pietrasanta o del complesso parrocchiale della chiesa di Santa Maria Assunta a Stiava solo per citarne alcuni. A Viareggio sarà invece possibile realizzare importanti lavori alla Villa Paolina oltre che portare avanti un restauro conservativo molto atteso nella sede storica della misericordia cittadina e anche la fondazione carnevale si vede riconosciuto un contributo fondamentale per il nuovo allestimento del museo. Risorse importanti che arrivano grazie a un bando storico col quale da anni la fondazione riesce a sondare le priorità del territorio cercando di supportare tutte le realtà della provincia nel tradurre le proprie esigenze in concrete progettualità. Restauro in corso alla Cappella Agile nel Campo Santo della Misericordia di Viareggio. Una volta terminati i lavori di restauro la Cappella Gentilizia della famiglia Gilles che si trova nel Campo Santo della Misericordia di Viareggio tornerà a risplendere. L'opera fu dello scultore Alfredo Angeloni unita a quella della manifattura Galileo Chini. La Cappella, un vero pezzo di storia del cimitero monumentale, fu fatta erigere da Vittorio Gilles, un industriale belga molto affermato nel settore tessile nonché fondatore della storica Cantoni di Lucca, che volle dedicarla alla memoria della moglie Filumena Bolkan scomparsa nel 1914. Sabato 18 dicembre molti viareggini e non solo hanno partecipato all'evento Cantiere Aperto dedicato ai lavori di restauro della prestigiosa Cappella in corso di esecuzione sotto la supervisione di Valentino Anselmi, funzionario della soprintendenza. Una Cappella significativa perché i restauri in corso da parte di Enrico Rossi e di Silvana Poli faranno riemergere in tutto lo splendore gli apparati lapidei, soprattutto all'esterno, e all'interno le superfici decorate sotto le quali, come possiamo vedere, già riemergono delle decorazioni in questi drappeggi che in passato erano state ricoperti invece con questa tonalità gialla. Decorazioni arricchite anche dalle iniziali del committente VG Vittorio Gilles. Quindi è un lavoro che sta proseguendo nel migliore dei modi, i restauratori stanno lavorando veramente a pieno regime, sotto la mia sorveglianza e sotto quella di Mauro Pardini, il direttore del Camposanto, con il quale veramente la soprintendenza sta intrattenendo un ottimo rapporto di collaborazione. Lo scorso fine settimana la cittadella del Carnevale ha ospitato un ospite particolare, Babbo Natale. Sono stati padroni di casa, Burlamacco e Ondina, ad accompagnare Babbo Natale sulla sua poltrona per incontrare bambini al centro della cittadella del Carnevale, per raccogliere letterine e desideri. Una bella domenica di sole ha accompagnato la giornata conclusiva dell'iniziativa Natale in Cittadella, organizzata dalla Fondazione Carnevale, con l'allestimento del villaggio di Babbo Natale, dove i bimbi, oltre a poter incontrare Santa Claus, sono stati accompagnati dai suoi elfi a realizzare i propri bigliettini natalizi nei laboratori creativi, dove è stato possibile anche imparare i primi rudimenti della carta pesta. Ad aggiungere ancora più magia alla due giorni, in cittadella è arrivata la giostra via Regina, la storica attrazione che ha fatto divertire intere generazioni e che fu realizzata dal maestro del Carnevale Francesco Francesconi a metà degli anni 50 per la Pineta. Negli anni 70 fu poi affidata ad un altro maestro del Carnevale, Giulio Palmerini. La scorsa estate la giostra è stata riaperta dal maestro costruttore Luca Bertozzi dopo un lavoro di restauro. Aperto anche l'Espace Gilbert, all'interno del quale hanno trovato posto le nuove costruzioni scelte tra quelle che hanno sfilato in occasione del Carnevale Universale. I costumi delle coreografie del carro di Roberto Vannucci e l'arca di Nelson Mandela dei fratelli Cinquini. Il club nautico della Versilia ha ospitato la cerimonia di premiazione della scuola vela Valentin Manchin. Il club nautico Versilia ha chiuso l'impegnativa stagione agonistica con una cerimonia interamente dedicata all'impegno dei velisti della scuola vela Valentin Manchin, che anche quest'anno con brillanti risultati sui campi di regata e tante soddisfazioni hanno saputo ricambiare l'attenzione rivolta dal sodalizio via Reggino verso i giovani. A consegnare i riconoscimenti sono stati il presidente del club Roberto Brunetti, il presidente onorario Roberto Righi, il vice presidente ammiraglio Marco Brusco e il segretario e direttore sportivo Muzio Scacciati. Sono tutti giovanissimi, quest'anno sono dagli 11 ai 17 anni, si stanno impegnando moltissimo e abbiamo avuto la fortuna di trovare due istruttori eccezionali, Massimo Bertonani che è il presidente del circolo velico di Torre del Lago Puccini e Stefano Quersolo, architetto, vicepresidente. Una sinergia fra i due circoli, anzi tre perché c'è anche la società vera via Regina, che stanno lavorando per far sì che questa scuola abbia dei risultati sempre più concreti. I progressi e risultati ottenuti sino ad ora dalla scuola Vela Valentin Manchin, nata nel 2016 dalla sinergia Tark Club Nautico Versilia, circolo velico Torre del Lago Puccini e società velica via Regina per essere un volano per il turismo versilese e per promuovere lo sport velico tra i giovanissimi, sono la riprova di quanto sia importante investire sui giovani, impegno che il consiglio direttivo del club nautico Versilia ha sempre sostenuto. Bene, con questo si chiude la prima parte di TG 9 Versilia, tra poco la pagina sportiva. Ben trovati dalla pagina sportiva di TG 9 Versilia, apertura dedicata al calcio, la serie D, due pareggi e una sconfitta per le nostre ma molte recriminazioni. Ottimo pareggio del Seravezza Pozzi con la capolista Rimini per 0-0 con il debutto più che positivo del neoacquisto Rodriguez che ha regalato le emozioni che i tifosi verde-azzurri già conoscevano. Addirittura la squadra di Massimiliano Incerti ha sfiorato il colpaccio che era priva di Granaiola e Bresciani. È stato Benedetti ben servito da Rodriguez al termine di un contropiede partito dagli sviluppi di un calcio d'angolo che è andato vicino alla segnatura nella finale della gara. Per il tecnico subentrata l'esonerato Alberto Ruvo sono due punti importanti nelle ultime due partite con le forti Aglianese e Rimini. Sconfitta dell'oreal forte Querceta per 1-0 sul campo del Tritium con il gol di Orefice arrivato al ventesimo del secondo tempo dopo che i ragazzi di Vitaliano Bonuccelli erano rimasti in dieci uomini quattro minuti prima per l'espulsione del difensore centrale Cintoi per doppia munizione. L'amministrazione delegato Alessandro Mussi è contrariato della decisione del direttore di gara Selvatici di Rovigo e chiederà che non venga più designato per le gare della sua squadra visto che in una precedente partita nella seconda di campionato contro il Borgo Sandonnino aveva già espulso il difensore che comunque ha la terza espulsione in campionato. Il Ghiviborgo contro il Carpi pareggia 2-2 ma recrimina per le due reti annullate nella ripresa per dubbio fuorigioco e Pillerigore ospite subito al 35esimo della ripresa con Sivilla che è costata anche l'espulsione a Nottoli vanificando un successo che avrebbe portato punti e Morale. Gol di Lauria per i ragazzi di Vangioni dopo 13 minuti dal via il pareggio di Sivilla per quanto riguarda gli ospiti al 18esimo, poi la rete all'inizio della ripresa dopo 3 minuti di Cicali e come detto il rigore che ha portato il punto agli ospiti al 35esimo. Veniamo adesso all'Occhie perché non è servito il cambio di allenatore sulla panchina del Forte De Marmi che perde contro il Bassano e scivola in sesta posizione in classifica. È il Bassano ad esultare dopo l'esonero di Roberto Crudeli. Una prova molto convincente contro l'Occhie Forte De Marmi nonostante l'assenza di bomber Federico Ambrosio. Una vittoria per 5-3 con la firma di Mark Coy, autore di una tripletta che fa volare i Veneti alla quarta posizione a pochi punti dal podio. Un esordio quindi amaro per Mark Gual che aveva sostituito in panchina nel Forte De Marmi l'esonerato Alberto Orlandi. Aveva replicato la formazione ospite con Kajas che era passata in vantaggio, poi Coy su rigore ristabilisce subito le distanze. Scuccato e ancora Coy vanno in gol per il Bassano. La replica di Casas e poi ancora Coy e Canzela a concludere le segnature per il definitivo 5-2 a favore del Bassano che di fronte al proprio pubblico conquista ancora tre punti sicuramente molto molto importanti. In pista fra 72 ore con l'undicesima giornata dove l'Hockey Forte De Marmi riceve il Monza al Palaforte ma i piatti forti sono Trissino Bassano e Lodi Follonica mentre il Sarzana ospita il Grosseto. Per quanto riguarda il campionato di Serie 2 vittoria del Centro Giovani Calciatori sul Grosseto per 6-4 mentre il Forte De Marmi riesce a fermare la capolista Sarzana sul punteggio di 5-5 fra le Muramiche. Con questo si chiude anche la pagina sportiva di TG Nuoversilia, tra poco la terza parte del TG. Terza parte del TG Nuoversilia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.